Ciao, oggi faccio la maionese con il Bamix e delle 4 fruste che ho in dotazione vado ad utilizzare quella forata che serve per lavorare delle creme a massa grassa, della maionese o delle creme a pasticcere. Gli ingredienti sono un uovo, una spruzzata di limone, un pizzico di sale e 250 ml di olio. Semplicissima da fare, con il Bamix è un attimo, basta rompere l'uovo dentro al bicchiere, un pizzico di sale, una spruzzata di limone, 250 ml di olio, si va a posizionare la lama forata nel Bamix, massima velocità, si immerge il braccio motore fino nel fuoco, si accende, e la maionese fatta. Ciao!